Nuova edizione di Oratg, ben trovati. Partiamo con il ponte sullo stretto di Messina. Perché? Perché domani il decreto potrebbe arrivare quasi certamente al tavolo del Consiglio dei Ministri per l'approvazione di alcune importanti norme. Si tratterebbe di un articolato con sette punti cardine che di fatto dà il via libera alla progettazione per poi la successiva costruzione dell'attraversamento stabile tra Sicilia e Calabria. Con molta probabilità domani il Consiglio dei Ministri tratterà in via preliminare anche il decreto legge per il ponte sullo stretto di Messina. Alla tavola del governo Meloni arriverà una prima ipotesi di decreto che di fatto avvia l'iter di aggiornamento progettuale di realizzazione del ponte così come annunciato dal Ministro per le infrastrutture Salvini. Dopo l'avvio della procedura il decreto sarà aggiornato e, secondo quanto comunicato qualche giorno fa da Salvini a Palermo, approvato definitivamente entro il 31 marzo. Il decreto potrebbe essere composto da sette capitoli dall'assetto societario, dunque con la rimmissione in servizio della società stretto di Messina S.P.A. alla governanza della stessa S.P.A. alle disposizioni finali. La società però verrà rimodulata, parteciperanno infatti RFI, ANAS, le regioni Sicilia-Calabria, quindi in misura non inferiore al 51% il Ministero dell'Economia che eserciterà i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture a cui il decreto attribuirà le funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa. Il progetto esecutivo dovrà essere approvato entro il 31 luglio del 2024. Impulso significativo alla procedura sarebbe stato dato dalla BEI, la Banca Europea degli Investimenti, che in caso di richiesta ufficiale sarebbe disponibile a valutare il ruolo di partner finanziario per la realizzazione dell'opera. In tal senso il MIT ha già avviato, prima ancora della stesura del decreto, la redazione dei dettagli tecnici con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale, così come richiesto peraltro dalla BEI. Gli uffici stanno anche lavorando all'aggiornamento dei costi delle materie prime e degli altri oneri, agli aumenti di mercato e fornire anche i dati aggiornati sul numero di transiti attuali di passeggeri e mezzi lungo l'attraversamento dello stretto a bordo dei traghetti e sul bacino potenziale di utenti futuri a ponte in funzione. Nelle scorse ore si è un attimino innalzata la tensione tra Stati Uniti e Russia per via di un incidente sul Mar Nero, un drone statunitense in contatto con un jet russo. Il drone statunitense ha avuto la peggio, è stato poi distrutto, pare che il velivolo senza pilota sia partito da Sigonella. Potrebbe essere partito dalla base della marina statunitense di Sigonella il drone che ieri nel Mar Nero è stato intercettato da due jet russi che, attraverso quella che è stata definita una manovra spericolata, avrebbero danneggiato irrimediabilmente il velivolo decollato probabilmente dalla base siciliana. Secondo quanto rilasciato dalle fonti ufficiali americane, si trattava di un drone che stava svolgendo operazioni di routine nello spazio aereo internazionale, così viene spiegato, quando sarebbe stato intercettato appunto da un aereo russo provocando un incidente alla completa perdita dell'apparecchio a seguito del danneggiamento di un'elica. La manovra avrebbe provocato rischi anche per il pilota del jet russo. Il drone avrebbe perso il controllo, così costringendo la marina statunitense alla distruzione del velivolo senza pilota. L'MQ-9, questa la sigla del drone, si pilota da remoto per mezzo di un sistema di antenne paraboliche e ricevitori che si collegano con la cabina di pilotaggio che sta a terra e questa con il drone via satellite. In verità cosa sia accaduto sui cieli del Mar Nero assai vicini a quelli ucraini e da dove sia effettivamente partito il drone è tutt'oggi un mistero, anche se almeno su quest'ultimo versante sono diverse le tracce radar che vengono rilevate dalle diverse applicazioni, anche gratuite, che visualizzano i velivoli in volo. Molti di questi droni infatti, purché con il trasponder acceso, sono stati spesso individuati con tracce chiare proprio dalle applicazioni specifiche, tutti con base di decollo e di atterraggio proprio da Sigonella. Una serie di controlli operati dal Comando Carabinieri per la tutela della salute ed intesa con il Ministero della Salute in 1.058 aziende di ristorazione in tutta Italia operanti all'interno di menze scolastiche ha evidenziato irregolarità in circa un terzo di queste, cioè 341, accertando 482 violazioni penali con sanzioni per circa 240 mila euro. I carabinieri del NAS di Catania hanno sequestrato 17 chilogrammi di preparato alimentare privo di indicazione di provenienza, utilizzato per la panatura degli alimenti in un laboratorio per la produzione pasti per la rifezione di scuole primarie dell'infanzia in provincia di Catania. Sono stati trovati anche prodotti decongelati a base di carne senza controllo della temperatura. Furto conno spaccata la scorsa notte, andiamo a Biancavilla. Nello stesso negozio i ladri, alla stessa maniera, erano già entrati qualche giorno fa ad inizio anno. Vediamo. Ci risiamo, verrebbe da dire. Nelle prime ore del mattino, poco dopo le 4.30, a Biancavilla, in Viale dei Fiori, un negozio di elettronica ha subito un nuovo furto con spaccata. Stavolta i ladri hanno lanciato contro una delle vetrate di accesso una Fiat Stilo, per poi entrare all'interno dell'esercizio di elettronica ed elettrodomestici, per araffare quanto più possibile. Quindi la fuga precedentemente. Il 21 gennaio lo stesso negozio aveva subito un furto, anche questo con spaccata. In quell'occasione, invece che la Fiat Stilo, venne lanciato contro una vetrata, una Alfa Romeo Giulietta. La banda, probabilmente a tre o quattro persone, portò via merce per circa 40.000 euro. Oggi la doccia fredda. E anche in questo caso il danno è stato ingente, anche se è ancora da quantificare. Ad indagare, sia sul furto della scorsa notte che sul furto del 21 gennaio, i carabinieri della stazione di Biancavilla, che si stanno anche avvalendo delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza disposti in zona. A dire la verità, la direzione del negozio di elettronica ed elettrodomestici, dopo il primo episodio, aveva fatto installare le pali in ferro a protezione delle vetrate, ma la scorsa notte i ladri hanno diretto la loro attenzione contro la porta d'ingresso del negozio, mettendo così a segno nuovamente il colpo. Ma lungo Viale dei Fiori non è questo il primo, anzi, secondo furto con scasso, perché il 7 gennaio, di fatto a poche centinaia di metri dal negozio di oggi, era stata presa di mira una boutique di abbigliamento, sempre utilizzando un'autovettura come Ariete. Un modus operandi assai simile che potrebbe avere un'unica firma. Si è aperto oggi a Milano il processo Annico Pandetta, il trapper siciliano, anche ex candante neomelodico, detenuto in esecuzione di una condanna definitiva per spaccio ed evasione, finito spesso al centro di polemiche per i testi delle sue canzoni. Pandetta è finito davanti al giudice della terza sezione penale, perché, secondo la Procura milanese, avrebbe violato il decreto sulle misure di prevenzione, ovvero, come si legge nell'imputazione, malgrado fosse stato sottoposto all'avviso orale del questore di Catania, nel 2015 possedeva un telefono cellulare, cosa non permessa, proprio sulla base della misura di prevenzione applicata. Voltiamo adesso a pagina, caro materiali, allo studio della regione siciliana, uno fondo che anticipi gli indennizi dello Stato inerenti, le compensazioni dei prezzi. Vediamo. Sono in crisi da tempo le imprese di l'italiane, la Sicilia non è da meno. Il problema del caro materiali doveva essere arginato in parte dai ristori dello Stato, che attraverso un fondo previsto dal decreto aiuti si è impegnato a compensare i prezzi schizzati alle stelle. Tutto molto bello sulla carta, anche perché le risorse sono state stanziate. A causa dello stop ai pagamenti, però, moltissime aziende non hanno ancora visto un centesimo e nel frattempo sono state costrette ad anticipare ingenti somme per l'acquisto, ad esempio, di materiali come quelli ferrosi che hanno subito un rialzo anche del 100%. Per venire incontro alle imprese e allo studio della regione siciliana, c'è la possibilità, tramite un fondo di garanzia, di anticipare gli indennizi che lo Stato tarda ad erogare. Il governo Schifani intanto sta stimolando il governo nazionale e il MIT per quanto riguarda il caro materiali. Oggi centinaia di aziende siciliane lamentano che da parte di Roma non stia arrivando ancora a quegli indennizi per il caro materiali. Abbiamo in sede di Ance anche valutato e stiamo valutando se ci fossero le condizioni per poter creare un fondo di garanzia, chiaramente con un fondo di rotazione per poter far fronte, anticipando queste risorse, agli imprenditori siciliani che stanno mettendo in gambo decine e decine di milioni di euro per opere che in questo momento sono in itineri, a causa appunto del caro materiale avvenuto a seguito prima della pandemia e poi della guerra ucraino-russa. Bisogna fare in fretta. Molti cantieri aperti in Italia rischiano lo stop per via della maggiorazione dei costi in pericolo centinaia di migliaia di posti di lavoro. Per quanto riguarda l'anticipo delle somme da parte della regione siciliana ha precisato l'assessore Falcone, è necessario ancora qualche settimana per capire con precisione come intervenire. Stiamo valutando qual è il veicolo legislativo per poter rinessere un'iniziativa simile. Dovrebbe essere sostanzialmente un'anticipazione fatta dalla regione e anticipazione che poi sarebbe rimborsata dallo Stato. Dovremmo avere però alcuni incontri anche con Roma. Alla fine di questi incontri potremo poi tirare le somme e poi rinessere tale misura. E i contratti per le utenze sono stati perfezionati. A breve 14 famiglie residenti negli alloggi di via Rovettazzo a Giarre si trasferiranno negli appartamenti messi a disposizione in via Spiaggia a Fondachello di Mascali. Rovettazzo è all'orizzonte il trasloco per le 14 famiglie che risiedono negli alloggi popolari da demolire e ristrutturare che costituiscono queste palazzine e che a breve saranno abbandonate dagli assegnatari. Ecco dove andranno i residenti di via Strada 18. Siamo a Fondachello su via Spiaggia nel comune di Mascali, la frazione marinara. Qui i contratti per l'allaccio idrico sono stati fatti e dentro la fine di questa settimana i titolari prenderanno possesso di questa nuova sistemazione provvisoria in attesa di ritornare in possesso delle loro case, però questa volta in condizione di sicurezza. A confermarlo è l'assessore alle politiche sociali del comune di Giarre, Giussi Savoca, presenta al tavolo congiunto svoltosi in municipio tra amministrazione comunale, IACP e Sunia. L'abbandono di queste strutture segnerà di fatto l'avvio concreto dei lavori. Il cantiere di fatto è già stato attivato ma con gli assegnatari ancora all'interno e l'attesa per la sottoscrizione dei contratti delle utenze tutto era rimasto bloccato. Per coloro che hanno riscattato gli immobili, 5 dei 6 residenti della palazzina D è invece stata convocata una riunione ad hoc a fine mese. Gli inquilini sono stati al comune di Mascali a definire tutti i contratti e quindi a breve si potranno trasferire. L'incontro che c'è stato ieri con il sindaco, la dottoressa Gian Barbieri, l'ingegnere Badalà, è stato per definire le ultime cose che a breve verranno comunque concretizzate e quindi si potrà partire per i trasferimenti. L'unico problema è la palazzina D dove gli inquilini sono proprietari, quindi il comune per iniziare i lavori queste persone dovranno uscire dalle case e dovranno trovare una sistemazione in quanto c'è un'ordinanza di sgombero che a breve dovrà essere espletata. Le famiglie che andranno a Fondaghello sono 14 e invece 5 sono quelle della palazzina D che dovranno trovare una sistemazione di cui una famiglia sola, il proprietario è l'OIACP e quindi ci penserà l'OIACP a sistemarla in una nuova abitazione. Poi ritorneranno, finiranno i lavori che dovranno durare un anno e torneranno nelle proprie abitazioni. Ci sono dei tempi per l'avvio di questi lavori? I lavori già sono iniziati perché il cantiere si è insediato, si sta aspettando che le famiglie si sposteranno nelle sistemazioni che gli sono state assegnate per incominciare effettivamente i lavori. Un 91enne Antonino Campo è morto ad Acate per un incidente domestico. Il pensionato aveva preso di mano un trapano per effettuare piccoli lavoretti domestici. Purtroppo la sciarpa che aveva al collo si è impigliata nell'attrezzo che stava maneggiando determinando una sorta di nodo che lo ha soffocato. E adesso le elezioni amministrative. Parliamo delle amministrative in Sicilia. Dopo l'annuncio del candidato sindaco di Catania, Cateno De Luca fa il punto anche sulle altre province. Sulle prossime elezioni amministrative in Sicilia, previste il 28 e 29 maggio, il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, sembra avere le idee chiare. Ed ieri l'annuncio del candidato sindaco della città di Catania in corsa. Per Palazzo degli Elefanti il giovane avvocato catanese Gabriele Savoca, 31 anni. Un volto nuovo, affermato De Luca, che si contrappone a figure che rispecchiano la vecchia politica. La scelta non l'ho fatta io, ma dopo che ho lanciato un appello ai giovani catanesi, perché ho tracciato l'identikit dal mio modesto punto di vista che dovrebbe avere il prossimo sindaco di Catania, c'è stata una risposta di tanti giovani che mi hanno contattato e con il quale ho avuto un confronto. E io ho detto, ma tra di voi è possibile che non ci sia la persona giusta per intestarsi questo ricambio generazionale? Ebbene, è arrivata l'indicazione di Gabriele Savoca, che io ho avuto modo già di conoscere in altre occasioni, perché è un infatti prodigio, nonostante i suoi 31 anni, già ha un'esperienza politica che avevo già riscontrato in altre occasioni. Saranno scelte lontane dai tatticismi. È importante un cambio generazionale. Le decisioni verranno prese in modo ponderato. Non mi faccio dettare i tempi da nessuno, ha affermato Cateno De Luca, che sembra avere posizioni chiare anche su Siracusa e Ragusa. Sul comune 10 Reale, invece, c'è ancora da lavorare. Noi abbiamo su Siracusa l'avvocato Trigirio, col quale ormai si è avviato un'intesa già che risale alle regionali, e lì si sta facendo anche un'operazione di rinnovamento preciso, che noi a Catania non candideremo, per esempio, nessun consigliere comunale uscente, nonostante sono stato contattato da 16 consiglieri comunali in carica. La stessa situazione in linea generale sarà su Siracusa, anche se lì il consiglio comunale è stato sciolto anni fa. Per quanto riguarda Ragusa, abbiamo un ragionamento che riguarda Cassì, il sindaco uscente, che ha fatto un bel lavoro e un'operazione civica, e obiettivamente noi non facciamo una questione di rinnovamento fino a se stesso, dove ci sono dei sindaci che comunque hanno lavorato bene e oggi ci chiedono di inserirci come azione di innovazione in un'amministrazione, non ci tiriamo indietro. Su ACI Reale abbiamo delle discussioni in corso, abbiamo visto che c'è anche un frazionamento, soprattutto nell'ambito del centro-destra, in questo momento stiamo lavorando alla formazione della lista, ci sono già dei contatti, ma ancora la decisione su ACI Reale sarà rinviata di qualche settimana, perché c'è qualche cosa che ancora non ci è chiaro. Il candidato sindaco di Catania, Giuseppe Lipra, ha inaugurato la sede elettorale in vista della prossima competizione per l'elezione del sindaco di Catania. L'aspirante primo cittadino, promotore del movimento popolare catanese, ha incontrato elettore simpatizzanti via Gabriele d'Annunzio 79, un luogo di confronto per redigere il programma politico partendo dalle esigenze dei catanesi. L'Ipera, nella sua prima uscita ufficiale, ha raccolto le istanze assicurando il massimo impegno in caso di elezione per la rinascita del capoluogo Etneo. Operatori balneari sul piede di guerra dopo la sentenza del Consiglio di Stato che vieta proroghe di concessione, le imprese chiedono la mappatura delle spiagge al fine di capire i reali ingombri dei lidi estivi. Alcuni giorni fa il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima la proroga prevista fino alla fine del 2024 delle concessioni pubbliche agli stabilimenti balneari nelle diverse regioni d'Italia. La proroga era stata inserita dal governo Meloni nel decreto 1000 proroghe, anche superando una sentenza del novembre 2021 dove lo stesso Consiglio di Stato aveva imposto che le attuali concessioni balneari terminassero, in qualsiasi caso, il 31 dicembre del 2023, anche per osservare una precisa disposizione dell'Unione Europea. Nel 2020, infatti, la Commissione Europea aveva avviato una procedura di infrazione contro l'Italia, in quanto lo Stato non era ancora intervenuto sulle concessioni e non aveva bandito una gara pubblica per la loro assegnazione, così come, invece, prevede appunto la disposizione europea. I balneari, spesso imprese a carattere familiare, sottolineano come questo stato di cose favorisca le grandi strutture a scapito proprio delle aziende piccole che, nel corso dei decenni, pagando talvolta in realtà concessioni davvero minime, hanno garantito la fruizione delle spiagge, con servizi apprezzati e, per molti, irrinunciabili. Adesso, gli stessi balneari chiedono che venga effettivamente realizzata la famosa mappatura che consentirebbe di capire il reale ingombro delle spiagge italiane. La mappatura del territorio, purtroppo, se non solo la regione siciliana, ma tutto il resto d'Italia non sa esattamente di cosa è proprietaria, quindi non ha un quadro completo e attendibile, cosa mette a bando e allora, come primo aspetto, c'è da chiudere la mappatura e da lì, secondo lo studio di Nomisma, si vedrà che solo lo 0,50 della superficie è occupata da stabilimenti balneari, quindi oggi mettere a bando una struttura balneare con la certezza che la disponibilità di aree libere ce n'è in abbondanza è semplicemente un esproprio delle aziende che nei decenni sono state create da fiduciari dello Stato, da coloro che, avendo in mano queste concessioni, hanno garantito che su quelle aree si rispettasse la legalità, si impedissero gli abusi e, proprio perché continuano ad essere concessionari, significa che vivono e operano nell'assoluta legalità, altrimenti sarebbero già state perse queste concessioni. A riposto nel Catanese importanti novità riguardano il primo bacino e la realizzazione del nuovo pontile unico che ridisegneranno in un contesto più ampio questa passeggiata a mare della cittadina ionica, oggetto di cospicui finanziamenti. Questione di giorni ai vecchi pontili galleggianti saranno collocati a Lampedusa, dal primo bacino di riposto, dove grazie a questo nuovo step si potranno avviare lavori per la costruzione del pontile unico, nonché quelli delle opere accessorie, per la nuova funzionalità portuale per la quale la regione ha stanziato un milione di euro di finanziamenti. A dare rassicurazioni sono il sindaco della cittadina marinara Enzo Caragliano e l'assessore al porto Carmelo D'Urso, che fanno anche sapere del sopralluogo avvenuto ieri tra una delegazione dell'assessorato alle infrastrutture insieme alla Capitaneria di Porto non solo nell'area perimetrale del primo bacino, ma anche nel molo Costanzo del porto commerciale, nel cui tratto finale si è verificato il cedimento di una porzione di mantellata a seguito delle ultime mareggiate. Importante novità perché ieri c'è stata una commissione dell'assessorato alle infrastrutture di cui ringrazio l'assessorato a Rigò, anche grazie al mio assessore Carmelo D'Urso, l'assessorato a Porto, abbiamo ottenuto questa visita per vedere i danni apportati dal mare alla mantellata esterna, che sono di notevole entità, prima della panchina Costanzo, l'impianto di illuminazione e allo stesso tempo abbiamo visto che c'erano danni sul primo bacino. Guardando il primo bacino abbiamo parlato, con l'ausilio e la partecipazione alla Capitaneria di Porto, si è parlato anche di quelli che erano i pontili che devono essere portati a Lampedusa e c'è stata l'assicurazione che la ditta che è stata incaricata per il pontone a portare questi pontili a Lampedusa ha già mandato la documentazione, o sta mandando la documentazione alla Capitaneria di Porto, per avere l'autorizzazione all'attacco, quindi finalmente si sblocca questa impasse che per noi era da tanto tempo attesa, con diverse interlocuzioni, è anche vero che Lampedusa ha avuto problemi, c'è problemi ancora tutt'oggi di criticità, vuoi per i migranti, vuoi per le barche in disuso e per le mareggiate che hanno subito anche loro, ma comunque finalmente si è ripreso e credo che il corso nuovo è quello di poter realizzare il famoso pontile unico di cui abbiamo fatto la gara, è già stata giudicata la ditta e possono iniziare i lavori tanto attessi. Per quanto riguarda i pontili, io già devo ringraziare il neoassessore Aricò e il suo staff è comunque l'assessorato in toto, perché comunque da neoassessore si è impegnato grazie anche ad incontri a Palermo effettuati dal sottoscritto comunque e anche dal sindaco, al fine di trovare una quadra, perché i problemi non sono stati di riposto o provengono da riposto, i problemi logistici provengono dall'Ambedusa dove dovranno essere collocati questi pontili per problemi di fondale, problemi loro, questo ha influito chiaramente alla permanenza dei pontili sempre qui nel nostro primo bacino. Comunque ieri ci hanno assicurato che sono al vaglio la documentazione riguardante i mezzi che dovranno arrivare, giusto per avere l'autorizzazione appunto a realizzare tutti gli interventi all'interno del bacino, ottemperando le normative sulla navigazione. Infezioni da Covid-19 in netto calo in Sicilia in linea con la tendenza nazionale. Nella settimana dal 6 al 12 marzo nell'isola sono stati rilevati attraverso i test antigenici o molecolari 1.085 nuovi positivi, il 9,66% in meno rispetto ai sette giorni precedenti. L'incidenza media è di 23 casi per 100.000 abitanti. I tassi più elevati sono stati registrati nelle province di Agrigento, Trapani, Siracusa. Più della metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano non vaccinati e comunque si tratta di nuove ospedalizzazioni in numero stabile. I residenti di Via Volano ad Acireale segnalano la presenza di questo palo della società elettrica pericolante da mesi. Il manufatto in legno ha ceduto alla base in seguito ai mancati interventi di sostituzione o messe in sicurezza alle sollecitazioni inviate agli uffici comunali competenti. Con redate di foto non è seguito un intervento risolutore a tutela di pedoni e mezzi di passaggio. Oltretutto si tratta di un palo che trasporta cave elettrici per la fornitura all'utenza della zona e in un'eventuale interruzione comporterebbe notevoli disagi o un reale pericolo. Nel caso in cui precipitano dal suolo uno dei cavi dovesse venire in contatto con i passanti. Nello slargo è presente tra l'altro una colonia felina gestita e frequentata da privati cittadini. Riqualificare le frazioni a mare di Acireale danneggiate dalla violenta mareggiata di qualche settimana fa, mareggiata che investì il litorale. Andiamo a Stazzo dove le onde hanno demolito la staccionata in legno e parzialmente distrutto i muretti in cemento. La violenta mareggiata dello scorso mese di febbraio ha provocato danni per milioni di euro su tutto il litorale ionico orientale della Sicilia. La tempesta ha investito con maggiore intensità le frazioni a mare di Acireale causando ingenti danni ai porti e sul lungomare. Da Capomolini a Pozzillo la forza del moto ondoso ha devastato ogni cosa. La ricostruzione e riqualificazione passa da risorse finanziarie della regione siciliana attraverso la richiesta dello stato di emergenza invocata dai sindaci dei territori rivieraschi. I guasti maggiori si sono registrati a Stazzo. La borgata marinara ha riportato danneggiamenti consistenti. Le opere di rifacimento della pavimentazione del porticciolo sono state spazzate via nel giro di un paio d'ore dalle onde che hanno battuto con violenza tutta la zona costiera rivelando ancora una volta la fragilità degli approdi marinari accesi. Il lungomare nei giorni successivi la burrasca si presentava così. Rimossi i detriti dalla sede stradale occorre adesso intervenire nel ripristino della staccionata in legno e dei muretti abbattuti dalla furia del mare in anticipo rispetto all'imminente stagione estiva quando la frazione si popola di residenti e villeggianti. L'assenza di barriere protettive sulla scogliere è motivo di serie preoccupazione ed occorre intervenire con celerità. Il lungo costa di stazzo e meta di passeggio per quanti abitano le case di villeggiature e i tanti vacanzieri che durante il periodo estivo si recano in questa località. L'amministrazione comunale non ha i fondi per interventi in emergenza. La mancata approvazione del bilancio di previsione non consente di programmare opere ordinarie e neanche lavori straordinari o di somma urgenza. L'unica speranza è legata alla dichiarazione dello stato di emergenza. Al momento però c'è assoluta incertezza. L'assessore alla manutenzione Salvo Grasso, interrogato dalle opposizioni nel corso della scossa seduta consigliare, ha illustrato così la situazione. Per quanto riguarda il lungomare di stazzo è stato fatto innanzitutto in tutte le frazioni a mare che sono state interessate dalle mareggiate. È un'operazione molto veloce perché già la domenica i lavori erano stati avviati e erano concretamente attivi gli operai a lavorare per rimuovere tutti i vari detriti. Quindi come protezione civile sono stati effettuati subito nell'immediatezza tutti i lavori necessari, considerato che ancora venerdì c'erano problemi. La domenica è stata in somma urgenza, sono stati avviati dei lavori, quindi veramente presto. È chiaro che non si può riprendere tutti i danni che ci sono stati, non si possono ripristinare in tempi brevi, anche per una questione economica, perché i danni sono stati ingenti sul lungomare di stazzo in particolare. Le altre frazioni, per esempio Santa Tegla, hanno avuto dei danni molto più contenuti, ma il porto di stazzo, che è un problema diverso, già era inagibile, comunque sono stati rimossi tutte le problematiche che lo rendevano pericoloso anche. Mentre invece sul lungomare ci sono dei problemi anche strutturali che non possono essere affrontati nell'immediatezza perché la disponibilità economica per fare questi interventi non c'è subito e anche perché abbiamo fatto una richiesta alla Regione che sembrerebbe aver avviato, e speriamo positivamente, un'attività per avere riconosciuto da parte dello Stato lo stato di emergenza. Una breve di cronaca, ha tentato di uccidere la moglie dalla quale si stava separando con diverse coltellate, è accaduto a Palermo, i due non vivevano più assieme da Natale, la donna ieri mattina è tornata a casa pensando che il marito panettiere fosse al lavoro, invece l'ha trovata in casa, l'uomo ha ferrato un coltello, l'ha aggredita colpendola più volte, la donna di 47 anni è stata ricoverata all'ospedale Ingrassia dove è arrivata accompagnata dei figli sotto shock piena di tagli su diverse parti del corpo, sono stati necessari 80 punti di sutura per medicare le ferite, l'uomo è ricercato da carabinieri e polizia. Le emissioni estreme del gommonauta Sergio Davi al centro della puntata odierna dell'intervista su rei tv ospite, in studio proprio l'esperto in traversate transoceaniche che più volte ha compiuto navigazioni per i mari del mondo, rispondendo alle domande di Filippo Romeo Davi riporrerà le sue avventure partendo dalla sua Palermo, raggiunto in gommone non senza difficoltà il circolo polare artico, Rio de Janeiro, New York, solo per citare alcune mete, collegato in diretta anche il giornalista sportivo del quotidiano La Sicilia Giovanni Finocchiaro. L'appuntamento oggi alle 21 anche su Facebook e in replica domani alle 13 alle 23.30 E con l'intervista noi ci salutiamo per qualche istante, diamo la linea alla regia, questa sera Fulvio Ferraute e Carmela Fagone, pubblicità, ci rivedremo subito dopo. Rieccoci in studio dopo la pubblicità, dalla redazione non ci sono altre notizie, chiudiamo il giornale con il meteo. Le previsioni del tempo in Sicilia del 16 marzo, vedete dal cartello cielo sereno, poco nuvoloso ovunque, ma attenzione eventi che potrebbero essere moderati o forti, da nord principalmente nella tarda mattinata e nel pomeriggio i mari saranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento le temperature adesso. Il cartello che segue ci parla di temperature stazionali rispetto a quanto registrato nella giornata odierna. Con il meteo ci fermiamo, termina qui questa edizione del nostro telegiornale, prossimo appuntamento con ora TG domani alle ore 14. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata. Grazie. 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 Grazie.